Un'interrogazione del consigliere comunale DEM Stefania Pezzopane, sottoscritto dalle opposizioni, sul parco urbano di Piazza d'Armi di cui non si vede la luce. Ora si viene a sapere che c'è uno spostamento di parte dei fondi, da un'opera all'altra. Si legge in una determina. Per le opposizioni è un trend dell'amministrazione, creare opere in tempi ristretti per ottenere consensi immediati. Per il parco c'erano 22 milioni di euro, tre andranno altrove, cosa grave per le opposizioni. Si cambia un masterplan con una semplice determina. Con una determina fanno un'operazione di tale spregiudicatezza e di tale scelleratezza che veramente c'è da rimanere storditi. Una determina cambia un atto consigliare. Una determina senza indirizzo della Giunta decide che tre milioni di euro degli australiani, una donazione post terremoto, vanno ad altro scopo. decide anche la determina di incaricare il RUP, di assegnare un nuovo progetto esecutivo per 140 mila euro. Quindi di fatto si ammette che il progetto precedente, per il quale c'era un contenzioso, debba essere in qualche modo rivisto, senza trattare con la società per acquisire quel progetto. Si tolgono i soldi e l'interrogativo è, ma si vuole veramente fare questo parco urbano o si ritiene che quel capitolo finanziario di 22 milioni di euro sia un tesoretto che l'amministrazione spende e spande? Vorrei ricordare che in quei 22 milioni di euro ci sono 15 milioni del Ministero Lavori Pubblici ottenuti partecipando a una procedura concursuale. Ci sono 4 milioni di euro che il Partito Democratico, attraverso le leggi mancia, ha donato alla città, più i 3 milioni dell'Australia. Andremo in Commissione di Garanzia, andremo in Consiglio, perché noi vogliamo che la città abbia un bellissimo parco urbano. La Rialto, come si ricorderà, aveva presentato un progetto esecutivo con una maggiorazione della spesa e allora il Comune, giustamente, seppur con ritardo, aveva stoppato tutto. Per le opposizioni, invece, il Comune avrebbe trovato a trattare con la Rialto per prendersi almeno il progetto. Altra domanda posta dalle opposizioni. Perché per il Ponte Belvedere il Comune non ha rescisso, visto che c'è un'altrettanta levitazione dei costi? Grazie a tutti.